Avvicinati Papyrus, avvicinati che ti faccio conoscere il mio amico coltello Ciao ragazzi, Gabby e bentornati su Five Nights at Freddy's That's where I wanna be, Five Nights at Freddy's Corri, corri, corri Occhio con quel piede in faccia, occhio con quel piede in faccia Dai che lo rascio, lo rascio Oh no, oh no, di nuovo Siamo davanti all'uscita, pallona Mi chiamavano Ready, Five Nights at Freddy's Oh no, oh no, che schifo, mi attaccano Stammi lontana bestia, stammi lontana bestia del demonio Proprio tre passi Mamma mia, che pro, corri Corri Spenta, chiuso Mamma mia, che rola Me lo sono meritato tutto, me lo sono meritato tutto E ballone fuori dai ballone Ora non gioco più per far le battute di Gabby, no Oggi si gioca da pro Torniamo su Sister Location e facciamo Breaker Room Oh no, 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 oh no tutte al massimo capito vai a dormire vai a dormire vai a dormire ti sparo ti spoppo devo calmarlo mentre ricarico la roba al massimo che cosa vuoi fermo non abbiamo fatto non abbiamo fatto è tornato al posto carica di tutti carica bomba faremo saltare questa fabbrica assieme il purple guy può morire nel suo cacchio di dove dai buono mani in alto al suo posto accuccio so che sei lì calma ti bestia caricali tutte si 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 mani in alto l'ultima e ce l'ho fatta molto semplice molto fa c'è veramente uno dei più spaventosi perché vedere un elometronico di 4 metri alla tua destra non è simpatico non è avete mai visto le persone sbrannate dagli orsi per niente bello alcune vanno due alcune vanno fatto con le due va bene aah pesto torna lì a piena potenza aii l'ultima si tutti wow che bello vedere tutto finalmente lucente e non è il buio pesto con un orso che aggressivo ho dovuto capire da solo quello che devo fare senza l'aiuto di niente ma io sono un bambino e i bambini dovrebbero stare a casa al sicuro torniamo alla robina frega niente sono un pro sono un cavolo di po andiamo avanti sempre con sister location adesso no è buggato però c'è un altro la stanza privata dell'ufficio sono i più belli quelli di sister location no questa è proprio un'esperienza classica di fnaf guarda le telecamere e attento al pericolo un classico insomma un classico le porte funzionano bene bene bevono mamma mia guarda le telecamere io sono qui ok la c'è qualcuno no la non c'è nessuno ci abbiamo tipo una due tre quattro cinque abbiamo sette camere ok c'è qualcosa li abbiamo la power perché guardare telecamere costa power c'è qualcuno nei condotti vuoi prendete sto pezzo di giornale si sta avvicinando te chiudo controlliamo attore c'ho condotti sopra no in teoria sulla sinistra destra ok chiunque era nei condotti e mo è andato posso riaprirvi ok forse no ok forse no allora queste sono le tele è sempre lì ragazzi no non mi serve guardare le telecamere in teoria basta che premi bottoni ma non se ne va via del condotto rimane lì a osservarmi nell'anima vattene non c'è un modo ok se ne è andato se ne è andato oh non se ne è andato mi ha fatto la finta brutto sficcato ah se ne è andato ma porco cane non fa rumore quando se ne va e volevi sulla destra molto vicino alla nostra camera se si avvicina io mi preparo eccolo lì sapevo sentilo 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 doc doc chi è voi voi non sapete cosa significa essere graffiati dalle sue carezze ed è per questo che tengo un casco wr in faccia per non mostrarvi le cicatrici perché fa molto male e adesso non capisco dove si è andato ha andato sulla sinistra quindi si può chiudere perfetto però stiamo andando bene 3 di mattina abbiamo sprecato il 50 per cento ma dovremmo farcela dovremmo farcela guarda 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 volevi non servono neanche le telecamere fai talmente tanto baccano che mi basta che ti chiudo la porta in faccia ora dove si è spinto il marrano non mi dire che ancora da eccolo si è spostato è sulla destra è lontano ma si si avvicinerà molto presto è tornato nei condotti è sempre bello vederlo avvicinarsi mano sul bottone rosso pronta a lanciare l'atomica pronto a lanciare l'atomica vieni vieni avvicinati avvicinati papirus avvicinati papirus avvicinati che ti faccio conoscere il mio amico coltello non si chiudeva il cototto ok me la sono cercata ti tiro tutto quello che ho adesso tutto quello che ho andiamo a giocare e allora giochiamo addio avvicinati senti che sei vicino se n'è andato ogni volta il brivido che sia ancora davanti alla porta il brivido guardalo lascia avvicinare non dopo quello che mi hai fatto cinque di mattina 25 per cento 5 5 se n'è andato a paura oh condotti non si chiude porco cane ho rischiato ho rischiato santo cielo questa volta non tocco più niente rimane chiuso lì quando vuoi che il tempo passi non passa quando vuoi goderti una cosa passa troppo veloce no va no 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 io non ci credo io non ci credo ok siiii let's go abbiamo distrutto anche annard a casa sua torniamo alla hub che si va avanti non ci fermiamo oggi non ci fermiamo le vinciamo tutte vabbè facciamo il secondo gioco del dj music man che è bellissimo non lasciare che il music man si avvicini usa la fed scam no che bella la fed scam ci sta me la ricordo nel gioco perfetto se si avvicina troppo sa che sei cheese che bello averla in mano è bellissimo partiamo è tornato e bro dj ci sta ci sta easy easy montagne montagne oh smetti a spettellare te lo mando te lo mando è corretto abbiamo l'x fattore l'x fattore bene 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 andiamo avanti alla prossima pizza onde fulmini ok oh buono mi pare che fosse giusto il pavimento no forse il pavimento era sbagliato forse il pavimento era sbagliato sbagliato vero lo so lo so lo so fammi risentire così era così era vai signore questa volta ci siamo questa volta ci siamo però questa ma ma anche un po' più vicino dai questo è per il club arcobaleni stellina freddy arcobaleni stellina freddy arcobaleni stellina freddy vai 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 è così non era verde era verde non è visto nella freddy sono nella freddy o copaleni andiamo avanti abbiamo avanti abbiamo fatto tutti i dj music man ci sarebbe bonnie bowling no che bello guardalo lì bonnie bowling tutti i giochi del freddy cioè mi hanno avuto un'idea assurdo voi state lì a guardarmi che ci penso io it's a me roman let's go bowling ma baffan cuoco mamma mia sono impedito al bowling sia nella vita reale sia nella vita virtuale che c'era in me no no fermate quella trota si si nei momenti di pericolo divento bravo oh ne arriva un altro che arriva adesso no bonnie 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 buono si sta avvicinando si sta avvicinando si sta avvicinando no 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 ok l'ho fermato mi sei fermato dovevo colpirgli il naso è una boss battle maledetto oh che paura ogni tanto ci bug il sistema oh che cosa sono questi pure questi ora mi metto in mezzo pure questi oh boom strike oh ora si ragiona oh fuori fuori luna ecco cosa si arriva la torcia posso finire e basta non mi importa di vincere ma guardate che sfiga però ho beccato il monitor robe che mi capitavano anche la vita reale queste che spaccavo tutto tra le buli no 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 arriva lei arriva lei mamma mia muta la mia fa ridere quando la colpisci dai però chiude che abbiamo fatto ho perso ho vinto non lo so l'importante era questo era bullying ragazzi non ci giocherò mai più perché odio il bullying faccio schifo dove c'è una cosa in cui faccio schifo il bullying backstage dobbiamo fare una sorta di minigioco con i colori ne vedremo di tutti i colori salve oh sole si devo colorare si si ok 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 si ho 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 perfetto ho ho caso devo colorare ok 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 che devo fare è rosso è rosso che devo fare guarda che bellezza guarda guarda il da vinci di fnaf mi chiamavano il da vinci di fnaf prendi questo pennello e disegna e combina il bordello fai un accello allora guarda qua dobbiamo fare il viola viola come le viole e sta cambiando adesso un ranocchio a me non c'è problema non c'è problema c'ho tutto sotto il controllo io vai e devo fargli anche rosso relativo senza macchia paura non andiamo avanti si è la mia opera d'arte adesso che devo fare cosa sto domini due fiappe no devo fare il peluche devo fare il peluche lo chiamerò abortino nuovo mostro di abortino abortitelo per favore aborti testo schifezzo c'ha un naso da orso e il naso da orso ce l'abbiamo il naso da orso per favore punete fine alle mie sofferenze tranquillo freddy presto porremo fine a tutto no avevo un papillon un papillon cacchio un cacchio di papillon papillon papillus abbiamo qui mettiamo le orecchie da orso dovremmo avercele anche un cappellino simpatico ho sbagliato luna luna no alcuni sono sbagliati ci vogliono anche le braccia le mani e le braccia diamone quattro ok e una e due e tre e quattro vale che bello è giusto è cappellino al papillon a tutto cosa se l'hai distrutto perchè cosa c'ho di sbagliato adesso spiegami ah si le orecchie a non sbagliare te erano ragazzo invece non parla da orso devo sbrigarmi è bruttissimo bruciano ti prego questo lato sono con da non mi fa seguitela più negli incubi ottimo è adesso sei diventato un po brutto anche te dobbiamo fare buttiamo anche te là dentro sarebbe una bella ok ho capito non ho tempo apriamo quattro delle gambe finché ce le ho è meglio attaccarle crediamo abortini dal 1986 ovvero dal bite of 26 ok allora questo ha un orribile occhio qua pion non ce ne ha questo 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 perde letteralmente gli occhi che bellezza di gatto signori ok credo che normale credo che abbiamo qualcosa di abnormalmente bello allora prima di tutto arancione c'è qualcosa di arancione mi sembra tutto giallo qui quindi facciamo tutto quello che è giallo giallo poi facciamo wow datemelo giallo giallo viola e allora questo è verde 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 di nuovo giallo alla bocca poi dobbiamo fare il viola si guarda che bravo che sono abbiamo tutto se quelli sono arancioni mi uccido mi sembrano gialli vai cosa cosa perché ho sbagliato adesso spiegami spiegami perché ho sbagliato spiegami subito no no perché perché erano giusti i colori idiota di uno aiuto noi 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 è arrabbiato è arrabbiato è arrabbiato e per oggi abbiamo fatto arrabbiare sole era una giornata bella e non era neanche sole mi ha già moscherato luna mi ha già moscherato porca vacca ma sono io dal tonico sto diventando dal tonico o che cacchio è successo lì dentro va bene dai va bene ci torneremo su quel gioco malato ci torneremo devo capirmi meglio ci sono intanto fatemi controllare c'è qualcosa che è cambiato qua ti cambiano le monete te ne danno anche di nuove se ce le hai ok questo ancora non sembra funzionare qui c'è qualcosa no sempre le monete che abbiamo già preso ti mostra dove erano qui ce n'è una però questa l'abbiamo tenuta per adesso mi fermo qui ragazzi per adesso mi fermo qui su questo nuovo episodio di fnaf spero vi sia piaciuto presto andremo avanti finiremo tutti gli altri mini giochi se volete ovviamente lasciate un sacco di like se volete continuo la serie supportatela consigliatela agli amici per questo natale vi consiglio anche di prendere il fumetto di gabby sicibit scomparsi le background per un'avventura spaventosa ma anche spaventosamente divertente io vi ringrazio per la visione in questo video e noi ci vediamo al prossimo episodio di vr paese 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 Grazie a tutti.